Tommaso subito con cattiveria Lascio questa mia Lotto! Lotto! Infatti, non mi avevo detto che è la mia Grazie a tutti. 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 Via! Ecotrail si parte, signori! Grazie a tutti. 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 Non ti vedevo? Una pochetta, bene. Come mai? Una banana! Eeeh! Eeeh! Meno male! Si torna a casa oggi. Il carnevale, quella di Torre dell'Agua, si sono proprio attaccatissime vicino. Nello stesso comune ci sono due e mezzo maratone. Non ci facciamo mancare niente. E allora, il più serio candidato ad essere in assoluto il più giovane concorrente sul traguardo è Valerio, che ha fatto la 11 kg. Uno spogliarello abbiamo qui. Tutto... E' un po' di sbagliare, e' un po' di sbagliare. Non mi ha dato niente. E' un po' di sbagliare. E' un po' di sbagliarello. E' un po' di sbagliarello. Primadfame. E' un po' di sbagliare. La signora ha lasciato fotografare il nostro caso. Grazie. Grazie. Grazie.